La prima domanda è quante startup ci sono qua dentro più o meno, quanti tecnici? Qualcuno? Ok, senza vergogna siamo due, almeno qua siamo protetti, perché parliamo di innovazione. Quello di cui racconteremo oggi è comunque un progetto che riguarda l'innovazione, in questo caso applicato all'editoria, e farlo in questa sede che ha visto nascere la mia startup, il mio percorso, in qualche modo al di là del mio percorso che a me era già iniziato, però è bello capire come la tecnologia possa supportare il mondo dell'editoria in questo caso e anche dell'arte. Quello di cui facciamo oggi, quindi se abbiamo un pubblico un po' più tecnico, facciamo un discorso, perché piuttosto che fare la presentazione classica del libro, che comunque poi in qualche modo avremmo a che fare, era interessante capire come le tecnologie possono essere utilizzate anche in altri campi. Brevemente Mario ha fatto l'intestazione, oggi parlo di arte costantemente, lo faccio tramite le mie società, ci occupiamo di editoria, di gallerie, di certificazione dell'opera d'arte con la blockchain. Dall'altro lato tutta una parte divulgativa legata all'arte e innovazione, quindi come appunto le tecnologie possono supportare l'arte, la fruizione culturale, la valorizzazione o i percorsi artistici. Di questo è molto interessante capire che cos'è la tecnologia che c'è dietro. Quindi facciamo, ditemi voi se vogliamo fare davvero un percorso un po' più tecnico per capire come possiamo applicarla. In questo caso parliamo di un chatbot, il chatbot è un sistema automatizzato che permette di rispondere a delle domande preimpostate. Nell'arco della vostra quotidianità avrete sicuramente avuto l'occasione di averci a che fare, sia un call center, sia un customer care, sia qualcuno che ha risposto e quella risposta che è arrivata subito probabilmente non è stato un uomo ma è stato appunto un sistema automatizzato. Il chatbot è molto interessante, ci sono delle statistiche che dichiarano che l'80% delle aziende nel 2020 lo utilizzeranno per risolvere i problemi di customer care, per risolvere i problemi quotidiani di gestione anche di pratica. Pensiamo a un biglietto, pensiamo a un biglietto aero, pensiamo al cinema, pensiamo a una prenotazione al ristorante. Dietro c'è l'intelligenza artificiale, quindi una macchina che in qualche modo interpreta dei messaggi e ne risponde. In Italia 22 milioni di persone usano Whatsapp, quindi tutti voi nelle vostre tasche avrete almeno Whatsapp o Telegram o Messenger di Facebook. Questo è un dato incredibile, anche perché si continua a crescere quotidianamente, quindi piuttosto che mandare un messaggio, un messaggio di tipo un SMS, si utilizzano sistemi di messaggistica. Perché il chatbot è interessante per questo? Perché utilizza le medesime tecnologie, quindi risponde come se fosse una persona. La differenza di un chatbot rispetto a una mail in list è questa, un chatbot ha un tasso di apertura all'80%, perché se io ricevo un messaggio su Whatsapp, su Messenger o su Telegram, penso che me lo stia mandando qualcuno che mi interessa. Questo è un dato molto particolare per chi fa marketing, perché capiamo il valore dell'interazione. Una newsletter oggi, quindi le email che ricevete, hanno un tasso di apertura se va bene all'1%, se va benissimo al 3% è normalmente lo 0,70%, quindi su 10.000 email vengono aperte 100 email circa. E quindi capiamo la portata. Avere un tasso invece dell'80% significa che qualcuno lo legge. Questo è marketing, però ti permette di avere valori come interazione, quindi io ricevo un messaggio, rispondo, mi aspetto che ci sia un'altra risposta. Come funziona il chatbot? Fondamentalmente abbiamo da un lato un utente che manda delle email, in questo caso sta chiedendo dei biglietti aerei, dall'altro il sistema tramite anche l'intelligenza artificiale gestisce queste informazioni, quindi capisce che cosa gli stiamo chiedendo. L'intelligenza artificiale permette addirittura con delle reti neurali di poter capire il livello di interazione. Se io faccio un errore il sistema automaticamente dice ok, ma forse volevo dire questo, e allora ti dà una risposta. Di conseguenza ti offre la sua risposta migliore, guarda sto cercando dei biglietti, ok, li vuoi da New York a Seattle, lui ti dice di sì e ti continua a dare delle risposte. Tutte queste risposte vengono programmate a monte, quindi decidi quali sono le potenziali interazioni. Queste potenziali interazioni si trasformano in un flow, ossia in un sistema abbastanza divertente di quello che può accadere. Se l'utente fa A, il bot risponde con B, o viceversa se fa C, se vado da qua mi porta qua, se rispondo qua mi porta qua, o poi mi ricollega qui. Quindi è un flusso che viene programmato a monte dall'utente, dalle persone in base, all'utilizzo. Allora iniziamo a capire se usiamo questa tecnologia per altri casi, come nel nostro caso, quindi l'arte, allora pensiamo che possiamo orientare l'utente. Ci sono dei casi molto interessanti con i musei di Bulzano, il Maxi, il museo delle scienze di Trento, che hanno utilizzato i bot per fare gamification, ossia per rendere migliore la visita museale delle persone. Cosa significa? Che tu fai la visita, il tuo telefonino, guardi l'opera, piuttosto che ascoltare l'audio guida puoi rispondere a delle domande, o continuare in un percorso guidato. Stiamo cercando di capire i comportamenti delle persone, come approcciano la cultura, dove si muovono, quali sono le interazioni. E allora creiamo un cosiddetto funnel, dei dati che possono essere quantificati. Quantificati significa poter capire quello che sta succedendo. Nel marketing, nei dati, l'importanza dei big data è fondamentale, perché se noi sappiamo che cosa fa il nostro utente, sappiamo quali azioni correttive o migliorative possiamo proporle, che siano vendita o altro. Oggi stiamo parlando di questo qua tecnicamente perché, ovviamente, essendo tante startup, ci si immagina anche i sistemi di promozione, come promuoviamo la nostra impresa. E la tecnologia in questo caso ci può aiutare. Adesso arriviamo finalmente a noi. Arte con Casbot prende il mio nome, lui, è un alter ego piccolino, che è stato inventato proprio con l'obiettivo di raccontare l'arte, di farlo in modo diverso, di poter in qualche modo cercare di dare un'interazione pubblica. Nelle mie attività ho fatto tantissimi video in cui racconto varie esperienze, varie problematiche, a volte soluzioni, a volte attività del mondo dell'arte. E per fare questo successe che Mondadori, mi chiamò, questa è la storia proprio del libro, qua arriviamo al libro Chatbot, in cui mi chiese di trovare un modo diverso per raccontare il mondo dell'arte. E tu dici, ok, come possiamo farlo? Ci prendemmo qualche mese e iniziamo a ragionare su quali tipologie e tecnologie potevano attirare gli utenti. Una cosa che sapevamo è che tutti quanti abbiamo il telefono in mano, tutti quanti usiamo Instagram, probabilmente qualcuno sta postando adesso, qualcuno sta scrivendo. E allora capiamo che il telefono è diventato in qualche modo parte di un processo costante e anche in qualche modo di studio. Un dato che a me ha stupito tantissimo, perché ormai non sono più un ragazzino, è il fatto che i diciottenni di oggi preparano gli esami, i ventenni, o anche le superiori, preparano gli esami utilizzando internet. E questa è una cosa da un lato bellissima, dall'altro spaventosa, perché se qualcuno studia su un video di YouTube di cui noi non sappiamo la fonte certa, è ovviamente una lama a doppio taglio, dall'altro è l'accessibilità completa alle informazioni. Dopo un anno di progetti, di attività, perché ovviamente capiamo anche la complessità di far capire anche a un editore che in qualche modo stavano facendo qualcosa che andasse oltre le pagine del libro, che non fosse la fisicità e altresì fargli capire che il libro funziona uguale, perché questa era una gran domanda. Allora abbiamo deciso di creare un libro chatbot, quindi siamo passati al video e siamo arrivati, sono arrivato, dico siamo perché con me lavorano tante persone in questo momento, Jacopo, mio padre, Mario e quindi tante, Mattia, l'ho dimenticato qua, sono già in tanti anche qua oggi, che supportano quotidianamente tutte le fasi anche di promozione, di redazione. La visione qual era? Era creare un libro che potesse essere veramente interattivo, che non fosse il QR, che non fosse il tag, quindi che non fosse il sistema di riconoscimento, ma che potesse avere una base di innovazione concreta, probabilmente anche troppa, però questo lo capiremo poco più avanti. Allora da qua nasce 100 domande e 150 risposte, un libro che di per sé voleva essere qualcosa che andasse oltre, quindi il gioco, no? 100 domande, 100 risposte, le trovi nel libro, le altre da qualche altra parte. Chatbot questa bella parolaccia, perché ovviamente magari prima di oggi non so quanti ne hanno sentito parlare, ma pensare in libreria e raccontare il fatto che ci potesse essere un sistema automatico era diverso. Allora abbiamo studiato un modello di libro, anche che fosse narrativamente similare, e quindi abbiamo da un lato le domande. Le domande, c'è un lavoro molto particolare, raccontare Leonardo da Vinci, raccontare Picasso, raccontare Banksy, non è facile, soprattutto perché c'è tantissima bibliografia, c'è tantissima conoscenza a vari livelli, ci sono i ricercatori, ci sono gli appassionati, ci sono gli studenti, c'è anche chi non ha voglia di approfondire, ma vuole sapere qualcosa in più, quindi c'è proprio un lavoro particolare. Il nostro target era 18-30, con focus allargato 18-55, e quindi anche andare a cogliere le terminologie giuste. Allora si è fatta una scelta. Innanzitutto un libro che in qualunque pagina tu apri, comunque hai un contenuto chiuso. Quindi che tu abbia 5 minuti e che ne abbia 10, le domande sono secche. C'è una domanda, chi scopre per primo il suo talento, e c'è una risposta. Tutte le risposte sono volutamente, strategicamente come narrativa, brevi. E' come se fossero messaggi, quindi richiamano capoversi, che sono separati tra di loro da un'interlina, proprio come se stessimo mandando un messaggio. E l'altro ragionamento qual è? Raccontare in una maniera organica un grande artista. E' in questo caso una divisione tra artist, artwork e artwork. Quindi tre sezioni per raccontare nel completo la vita di un grande artista. Artist si racconta la sua vita, quindi il suo percorso, i suoi studi, la sua famiglia. Artworks raccontiamo le sue opere, quindi attraverso le sue opere, che cos'è la sua grandezza, perché è così grande, come è arrivato. Ed infine artwork, il suo mercato. Adesso poi ne vediamo qualcuna, vediamo magari il Salvatore Mundi, nel caso di Leonardo, ma in generale quello che è successo, anche in termini di curiosità, di eventi che sono capitati. Su Leonardo ce ne sono una marea, adesso entriamo proprio nel vivo. Dall'altra parte il bot, una parola chiave piccolina, che ti permette di avere delle interazioni, quindi dei contenuti speciali. I contenuti speciali sono ovviamente legati alla domanda, quindi chi scopre il suo primo talento, c'è una parola chiave, che si chiama LV Talento, che ti apre un mondo. Adesso lo proviamo poi immediatamente. La cosa più interessante è che da questo libro possiamo andare a utilizzarlo sul sito, su Facebook, su Telegram, su WhatsApp, sugli assistenti vocali. Non so se qualcuno di voi li conosce, o chi li ha, sono Amazon Alexa e Google Assistant. Sono dei sistemi in cui è possibile, con un richiamo vocale, comandare device, dalle luci alla musica, alle applicazioni. Possiamo fare una serie di interazioni, in questo caso leggere anche un libro. Questo l'abbiamo fatto con il loro supporto, insieme anche a Huawei. Siamo presenti su tutta la piattaforma di Huawei Video, con i contenuti esclusivi. Quindi abbiamo creato un network di collaborazioni che potessero in qualche modo supportare anche questa piccola visione, ma soprattutto avere tanti strumenti comodi. Usi Telegram? Va bene. C'è arte con casbotto, lo aggiungi, lo aggiungi alla tua chat, lo chiami e ti può fare tante attività. Opla. In particolare, quali sono queste attività? Che al di là delle pagine del libro, noi abbiamo un'interazione, ci sono oltre 30 video, in realtà sono oltre 50, ci sono delle quotes, quindi delle citazioni, ci sono dei quiz, ci sono delle trivia, ci sono delle fotografie e in più ci sono delle partnership. Cosa significa che se noi qualcuno appassionato di Leonardo, gli possiamo proporre la mostra, gli possiamo proporre qualche altra attività che per lui è interessante e tutto questo senza mai uscire dal libro e dal telefonino. Quindi abbiamo un legame stretto e questa è la cosa più strana di questo libro, è l'interazione dove per avere quell'informazione puoi veramente andare oltre. Per attivarlo lo possiamo fare direttamente dal sito, lo possiamo provare anche direttamente insieme, potete anche prendere, prendete pure un telefonino, avete tutti internet tanto, suppongo, se no c'è la wifi. Andate su www.arteconcas.it Eccolo qua. Questo lo facciamo in diretta insieme. Questo è il sito di arrivo, quindi dal libro tu sai che puoi andare su www.arteconcas.it. A un certo punto appare in bassa destra lui. E questo è il bot. Funziona anche sul sito. A un certo punto noi possiamo, ci chiedeci del benvenuto, ci dice come stiamo, possiamo chiedere lui già delle attività. Ma possiamo iniziare a chiedere, per esempio, abbiamo visto prima LV Talento. Se noi digitiamo immediatamente, potete farlo anche voi, se io digito qua LV Talento, a un certo punto succede qualcosa. Lui invia, io sono qua, non c'è niente, nessuno di loro sta rispondendo, ve lo garantisco, lo sta facendo da solo. La peculiarità qual è quindi? È che nel video e nelle interazioni noi abbiamo la possibilità di usare un altro strumento di comunicazione e di creare un'interazione diretta con il lettore, che prima non era possibile, ah perché ovviamente il video, però puoi creare un'interazione abbastanza forte, abbastanza diretta, perché cambia il messaggio di comunicazione. E in questo tu puoi avere una grandissima forza, perché puoi dire tanti dettagli, puoi dare sfumature, puoi dare emozioni. I video sono stati fatti volutamente con un'interazione diretta, quindi hai un one to one con il lettore. E crea un equilibrio. Questi video sono tutti privati, quindi solo chi ha il libro e chi può accedere con queste parole chiave può in qualche modo interagire con il bot e con il sistema. Ci sono oltre 50 parole chiave che danno contenuti diversi. Per esempio ci sono contenuti su Google speciali, si usa per esempio su Google Arts, c'è un bellissimo contenuto dove è possibile fare la visita virtuale del Cenacolo o ancora creare dei tour specifici. Questa è la più grande innovazione di questo libro. E questa è la peculiarità, è la possibilità di andare veramente oltre le pagine. Per noi è molto interessante sapere a che punto è il lettore, poter parlare con lui, poter creare interazioni, e vedere anche se si riesce ad andare un po' oltre. Leonardo da Vinci tutti quanti in qualche modo lo conosciamo, no? Maestro dei maestri, inventore, pittore, scultore. È stato veramente di tutto, scenografo, è stato scritto commedie. È una persona talmente importante e grande che è un mito. Quest'anno si festeggiano i 500 anni dalla sua morte, quindi ne avrete sentito parlare ovunque, mostre, eventi, cultura. Raccontare un grande maestro anche in maniera, diciamo, un po' diversa è stata una grande sfida. Ovviamente ci siamo basati tutti quanti, io e in primis il comitato culturale che ha supportato la fase di ricerca sui più grandi esperti di Leonardo, perché ovviamente la storia è assolutamente padrona. Ci sono qualche curiosità, per esempio, sul Salvatore Mundi, quindi un'opera di Leonardo che è stata venduta qualche anno fa, è stata battuta da Cristis per oltre 400 milioni di euro, una cifra incredibile. E questo è presente nel libro, perché parliamo di un'opera di Leonardo che ha battuto il record in asta, quindi 400 e rotti milioni è veramente una cifra molto importante. Qualche settimana fa, un mese adesso ormai, il Louvre ha dichiarato che non esporrà mai il Salvatore Mundi in quanto non lo reputo originale. Bene, questa informazione noi la possiamo mettere nel chatbot, quindi possiamo aggiornare un contenuto, tenere un contenuto sempre in linea su quello che succede e allora davvero andando oltre le pagine del libro hai un costante aggiornamento e questo è un potere molto interessante per l'editoria. Quindi un'opera che valeva 490 milioni scende drasticamente a un valore di più o meno da un milione e mezzo ai tre. Questo è il valore. Dietro quest'opera ovviamente ci sono tante speculazioni di varia natura, non tanto economiche, ma tante quanto anche d'immagine, perché pensiamo che tutti quanti sappiamo più o meno questa storia del Salvatore Mundi, l'abbiamo sentito nominare per questa cifra grandissima. Se il Louvre di Abu Dhabi avesse dovuto pagare tutte le prime pagine delle riviste di cui hanno parlato di questa notizia, probabilmente supererebbero di gran lunga anche quei 490 milioni. Ora tutti sappiamo che c'è un Leonardo ad Abu Dhabi, sappiamo che c'è un Louvre ad Abu Dhabi, sappiamo che aprirà un museo. Questo è il potere della comunicazione, questo è il Leonardo da Vinci, questo è anche il marketing e le attività. Pieno di queste curiosità, è pieno di un aspetto che sia in qualche modo diverso, e che sia un Leonardo, diciamo, più vicino anche a noi. Il libro sono 100 domande e 150 risposte, apri e chiudi, è un'ottima lettura. La base scientifica e narrativa è come questa, è veloce e volutamente. Se abbiamo fatto un lavoro proprio di lavoro narrativo, ho deciso proprio di scrivere il libro in un modo che potesse essere più vicino possibile a noi e che fosse di facile lettura, che potesse fare appassionare le persone, i grandi maestri. Io di questo sono davvero contento, è un bellissimo libro. Qualsiasi domanda che abbiate su Leonardo, sul libro, assolutamente qui. A settembre uscirà il 17 settembre il secondo libro. Sarà su Banksy questa volta, quindi passiamo da Leonardo al re della street art. Adesso è salito alla ribalta per Venezia, probabilmente il più famoso street artist al mondo, colui che ha forse per molti creato la street art o comunque quello che si chiama il Banksy Effect, ossia la possibilità di avere l'interesse e l'attenzione dei media su un argomento della sua opera d'arte. E allora questo è assolutamente, ma quello sarà a settembre. Oggi abbiamo Leonardo. a presto 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 a prest